Ad un anno di distanza dall'operazione antimafia ultimo atto condotta a Biancavilla esattamente un anno fa e portata a termine dai carabinieri della compagnia di Paternò arrivano le richieste di condanna in tribunale a Catania per 13 imputati. Pene che variano da 3 a 20 anni di reclusione per i presunti capi e gregari della clana dei Tomasello Toscano Mazzaglia legato al gruppo criminale dei Santa Paola di Catania. Con l'operazione antimafia i militari dell'arma sono riusciti a mettere fine al giro di traffico di droghe e distorsioni sul territorio cittadino. Ed eccole in dettaglio le richieste di condanna per i reati di associazione mafiosa, spaccio di droghe e distorsioni nel processo con rito abbreviato. Per Salvatore Manuel Amato la richiesta di 10 anni e 4 mesi, 10 anni per Fabrizio Di Stefano e ancora per Placido Galvagno i PM hanno chiesto una condanna a 20 anni di reclusione, richiesta di mezzata, 10 anni per Giovanni Gioco, 13 anni invece sono stati chiesti per Piero Licciardello, 12 anni per Giuseppe Manca e ridetto Upipi, ancora richiesta di condanna, 8 anni e 4 mesi per Nunzio Margaglio, Alfio Muscia chiesti 8 anni, 14 anni e 8 mesi per Mario Venia, 8 anni per Carmelo Vercoco, 4 anni di reclusione per Cristian Lucicero e ancora 4 anni per Vincenzo Pellegriti, divenuto collaboratore di giustizia e 3 anni e 4 mesi per Marco Toscano. Pellegriti da collaboratore di giustizia sarebbe stato determinante per ricostruire passaggi della criminalità organizzata sul territorio biancavillese. L'inchiesta è stata coordinata dal sostituto procuratore Andrea Bonomo che ha firmato la requisitoria insieme al PM Angelo Brugaletta. In aula si sono costituiti parte civile il comune di Biancavilla, assistito dall'avvocato Sergio Di Mariano e l'associazione Libera Impresa con l'avvocato Elvira Rizzo.